Un'altra partita, regaliamo punti sempre alle squadre avversarie, adesso è ora di smetterla, cominciare a guardarsi in faccia, abbassare un pochettino le ali e far andare la parola, perché così non si può andare avanti. Set sempre dominati, non ho ancora trovato una squadra che ci abbia surclassato nel gioco. Noi continuiamo a buttare via le gare e questo dopo alla fine lo paghiamo. Quindi sicuramente una sconfitta che fa ancora più male di quella di sabato scorso e quindi adesso bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare e portare via sicuramente tre punti sabato.